Ora è ufficiale. Da mercoledì sera Andrea Giuliani è il nuovo sindaco del comune di Cogli al Metauro, il municipio che dal 2017 comprende la fusione tra le frazioni di Montemaggiore, Saltara e Serrungarina. Con le elezioni dell'ex sindaco Stefano Guzzi ed assessore regionale, oggi Giuliani, che si precisa essere qualificato come vice sindaco facente funzione, si trova a prendere le redini del territorio fino a maggio del 2021 in vista delle prossime elezioni comunali. Mercoledì sera nel secondo consiglio comunale che si era reso necessario per sancire in qualche maniera ufficiale la decadenza del sindaco Stefano Guzzi, il consiglio comunale ha preso atto di una nota scritta dallo stesso sindaco in cui lui esercitava l'opzione a favore del suo ruolo di assessore regionale. Di conseguenza il consiglio comunale, che è comunque l'organo democratico principe dell'amministrazione, ha preso atto di questa opzione e di conseguenza ha dato mandato al vice sindaco, in questo caso sottoscritto, di traghettare l'amministrazione verso le prime elezioni utili che presumibilmente, se non succede niente a causa del Covid, dovrebbero essere a primavera 2021. Ho preso l'occasione l'altra sera in consiglio comunale di ringraziare il sindaco Stefano Guzzi di questi tre anni di cammino insieme, di tante cose che ci ha insegnato, delle tante opere e anche per ribadire appunto le tante opere che abbiamo messo in barra al centro e cercare di portare in porto il numero più alto di opere pubbliche che abbiamo iniziato e soprattutto io penso sia importante lasciare nei cassetti dell'amministrazione importanti progetti in maniera tale che chi verrà dopo di noi giustamente abbia di che lavorare.